Un albergatore aveva proposto 70 posti a Bognanco, ma immaginate voi cosa sarebbe successo mettere 70 migranti in quella valle? Così parla Mauro Tiboni, assessore di Varzo, intervenuto durante l'assemblea del Consorzio Servizi Sociali dell'Ossola per rimarcare che su questo problema si stanno cercando soluzioni che evitino conflitti e che tutti gli amministratori devono farsene carico. L'intervento ha suscitato la reazione dei sindaci anche se il presidente del CIS Giorgio Vanni ha invitato a trovare soluzioni concordate. La nostra convenzione scade a fine maggio, spiega Vanni, e la prefettura ci ha rimproverato di non averla rispettata. Erano infatti previste 219 presenze a quella data, oggi in Ossola i migranti sono 155. Dopo il 31 maggio la prefettura è libera di fare come meglio crede, anche di appoggiarsi ad operatori privati. Noi crediamo che il CIS abbia svolto bene questo servizio che altri operatori spesso trascurano, quindi dobbiamo discutere su cosa fare. Immediata la reazione del sindaco di Borgo Mezzavalle Alberto Preioni, che dice, voi sapete come la penso sull'immigrazione e sulle imposizioni fatte agli amministratori. Spero che con il nuovo governo la situazione cambi. Sono però d'accordo con Vanni perché il CIS ha una gestione più chiara ed equilibrata, mentre i privati sui migranti fanno solo affari. Più duro con la prefettura, il sindaco domese Lucio Pizzi. Ebbene, sia il CIS a gestire i migranti, ha esordito Pizzi, perché sa farlo meglio. Poi l'affondo. È inaccettabile che la prefettura decida di mandare troppi migranti in piccoli paesi. Se c'è un accordo Anci-Ministero, anche la prefettura lo deve rispettare, altrimenti a cosa serve fare accordi? Non intendiamo subire imposizioni e l'esempio di Domodossolo è chiaro. Abbiamo ridotto i migranti.